Salve a tutti e benvenuti con questo nuovo video, io sono Salopimpos e oggi torniamo alla domenica Horror con Resident Evil 7 Allora, l'ultima volta ho recuperato il cavo dell'ascensore, perfetto, adesso ci manca il fusibile Il fusibile, dove trovare noi il fusibile? Dalla mappa ho visualizzato un po' di stanze in cui poterla trovare Praticamente lo esplorate tutte, quindi l'unica soluzione potrebbe essere effettivamente quella di recuperarla al primo piano Praticamente abbiamo inserito un fusibile per aprire la porta quando siamo arrivati sulla nave Quindi l'unico fusibile di questa nave praticamente penso che sia quello Quindi andiamoci a dare un'occhiata sperando che l'Iker non rompa un po' le scatole Dunque adesso mi devo ricordare io da dove ci devo andare Dunque andiamo di qua, andiamo tizio, possibilmente senza perdere tempo Perché me ne voglio andare da sta nave, il prima possibile pure Ok, dobbiamo andare al primo piano, di qua si ci andava, giusto? Vediamo tizio, andiamo tizio, vai tizio Ok, qua siamo al secondo piano Al primo piano penso che la porta forse era chiusa al primo piano, mi sembra Primo piano infatti è chiusa, possiamo aprire? No? No, quindi dobbiamo andarci dal secondo piano Andiamo tizio, vai Tizio, purtroppo qua le scorciatoie sono tutte chiuse Quindi cerca di impegnarti un po' E... salve Ma i mostri ce sono più qua? Allora Dobbiamo andare all'ascensore e buttarci di sotto Sempre se non ci sono mostriciattoli in giro C'è nessuno, spero di no Ma sta porta l'ho aperta io Sa... No, 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 aiuto Non l'avevo aperta Non l'avevo aperta Vieni qua, mostriciattolo maledetto Vieni qua, piccolino mio, piccolino Non l'avevo aperta sta porta E che cavolo E che c'è? Qualcosa me la dovrete dare, eh? Perché... Cioè, ho sprecato una bomba Che mi date? Polvere da sparo Va bene Questo che è? A 16 anni dal limbo di Raccoon City I sopravvissuti stanno ancora soffrendo Eh, lo so, immagino Ma questa è aperta Quindi... Quindi l'avevo aperta questa stanza E quindi Ma come caracchio? Fluido chimico Ma io ci sono passato di qua Bu Allora, possiamo craftarci qualcosa? Per adesso non abbiamo soluzione No, ce l'abbiamo soluzione Abbiamo un po' di cose Vabbè, lasciamole, va Lasciamole Bu Comunque, dobbiamo andare all'ascensore Sempre se non mi sono scordato altre cose L'ascensore, ma dove cacchio è l'ascensore? Qua, 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 qua Perfetto Ok, come siamo messi con i leaker? Come siamo messi lì sotto? Oh, ma scendi Ti... Mia Ti smuovi, mia Io qua ho paura E tu perdi pure tempo Qui sotto come eravamo messi con i leaker? Li avevo uccisi tutti? O me ne era sca... No, mia, devi scendere Mia Mia, non cominciare, mia Devi scendere A primo piano Lo so che non ci vuoi andare Ma ci dobbiamo andare, mia Ok, vai Vai, mia Vai che ce la puoi fare Mia Mia, ti prego Mia Per favore, mia Di ci mettere pure tu Qua dobbiamo stare attenti ai leaker pure Eccolo qua Eccolo qua Dov'è? Eccolo qua Il bas... Io mi ero parato però Mi ero parato però Com'è che tu rompi lo stesso le scatole? Maledetto che sei Maledetto che sei Maledetto che sei Maledetto che sei Licaraccio Maledetto Vabbè Mia Non ci pensiamo più L'altro mi sa che l'avevo ucciso Quindi non credo che ce ne siano altri Mi pare Comunque Per sicurezza Esploriamo un po' la zona Che io qua poi con il fusibile in mano Qua Ce ne erano qua? E' bello che non si vedono Non è che si vedono Non si vedono I maledetti C'è nessuno? Eh si c'è Perché io sento rumori C'è Il maledetto c'è Dov'è? Eppure di là Forse aspetta Forse ce l'avevo Ecco qua Fusibile Perfetto Scappiamo Via 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 Scappiamo Scappiamo Come se non ci fosse un domani Via Scappiamo mia Veloce mia Veloce 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 Non è che mi viene a trovare qua Che lo amato Lo distruggo Chia che non c'è nessuno Che poi ho 18 liker di sopra Ok qua siamo all'ascensore Si Andiamo mia saliamo Saliamo mia Mia sali mia Mia Perché perdi tempo mia Ok abbiamo tutto Quindi possiamo ripararci l'ascensore Giusto Perfetto Ok metti qua mia Mettiamo il fusibilotto Mettiamo Perché l'hai ripreso Mia Mia ma che cacchio hai oggi Mia devi mettere qua Mia devi mettere la corda Il cavo Oh Possiamo Oh finalmente Abbiamo riparato l'ascensore Fantastica Possiamo scendere da Ethan Andiamo 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 Chiudi Chiudi Che dobbiamo scendere Chiudi Hai premuto mia Mi hai premuto S2 Ok dove siamo adesso Salve Possiamo craftarci qualcosa Io ho paura Eh niente Possiamo craftarci solo munizioni Niente Però adesso Ce l'abbiamo le munizioni Quindi vediamo Ma no Perché mi segui ovunque Che c'è qua Munizioni mitragliatrice Ottimo Ottimissimo Qua abbiamo Oh Non mi piace sta musica Qua c'abbiamo niente No Qua non c'è niente Qua siamo praticamente Dove siamo andati Nella cassetta E qua Se non sbaglio C'erano mostri Se non sbaglio Qua c'erano Mostri E lì vedo Oh 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 dove sta andando Questo Via 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 Si sta buttando Di qua Sta scendendo Aiuto Pezzo di Pezzo di fango Dove sei Vieni qua piccoli Vieni qua piccolo Vieni qua Vieni qua da papino Vieni qua Bastardo mi stava venendo Da dietro Mi stava venendo Da dietro Il pezzo di fango Ragazzi Ho paurissima Ce ne sono più Che transitano Sopra la mia testa Ce ne sono più Qua c'è una cassa Io ho pure di quella zona Aspettiamo Vediamo che c'è qua Vedo ombre Lo sapevo Via 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 Piazza la bomba mia Piazza la bomba Via Sono pure veloci Sono Ma sono pure veloci Ma sono velocissimi Ma che cacchio Vi siete mangiati a pranzo Un po' di risotto Con gli spinaci Ah va Rompi qua mia Fruito chimico forte Quindi potremmo Craftarci effettivamente Una soluzione medica Oppure delle munizioni Per adesso portiamoci tutto Va Portiamoci tutto Per adesso non utilizziamo niente Perché qua dobbiamo capire Un po' la situazione Com'è Ok Quasi una bomba Fantastico Prendi bomba mia Prendi bombe Che ci servono Le bombe Sono le migliori armi Di questo gioco Secondo l'armadietto Munizioni Pistola Che non me ne faccio Proprio nulla Vista la situazione Qua non vedo niente Andiamo di qua Eh Che 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 Liker maledetti Liker maledetti Liker maledetti Non mi colpire Non mi colpire Non mi colpi Ma sono velocissimi Sono Sono velocissimi Sono velocissimi Per pochissimo L'ho ucciso Cioè Mi era saltato addosso Sì ma Sto mitra Però potreste Potenziarlo Un pochino Andiamo Mia Aspettiamo Vediamo un po' Quello che c'è qua Dove siamo Qua tanto per iniziare Ok Sala macchina Qua c'è una stanza Andiamo di qua Bombe 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 Datemele tutte Le voglio Oh Da dietro Io ho paura Qua mi assaltano Da dietro Tra l'altro La musica Non mi piace proprio Munizioni Pistola Ok Ma la pistola Io nemmeno la uso In queste condizioni Datemi armi più potenti Ok Munizioni mitra Carica mia Niente Non caricare Qualche Munizioni mitra Io ho paura C'è Qua mi assaltano Da dietro Nitragliatrice Qua non vedo altro Ok Andiamo di qua C'è nessuno Qua non vedo niente Andiamo di qua Salve 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 Qua c'è niente Ma bomba 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 Mi piacciono le bombe Qua c'è niente No Qua non c'è Qua c'è qualcosa Mitragliatrice Ok Qua non vedo Niente Qua non vedo Niente Io ho paura Lo stesso Quasi quasi Mi piacciono le bombe Va Chi è Chi è No bastardo Vieni qua Vieni qua piccolo Vieni Vieni piccolo Vieni qua piccolo Che c'è una sorpresina Che c'è una sorpresina Che c'è una sorpresina per te Via di sorpresina per te No ma veramente Così tanti mostri ci sono Rimettiamo le bombe va Via Rimettiamo le bombe Che qua è pericolosissimo Salve C'è nessuno Il mostrone Via di bomba Via No l'ha fatta esplodere Maledetto L'ha fatta esplodere con quella cosa Mettemela qua Mettemela Vieni piccolo Vieni qua papino Vieni qua papino Vieni qua da papino tuo Vieni qua Ti do un giocattolino Avanti Esco Al solito non mi freghi però C'è questo La prima me l'ha fatta sprecare però Me l'ha fatta esplodere con il suo Con il suo acido Ok vediamo che c'è qui C'è più alto C'è altro qui Ma perché tutte queste cose Mi state mettendo alla fine Vi prego niente più Vi prego che Ha niente Tu da darmi un caschetto Così mi riparo la testa Rompi qua mia Munizioni pistole Datemela le bombe Visto che si usano come se non ci fossero domani Datemele Qua non vedo niente Andiamo di qua Che c'è mia Sei mezza morta mia Mi sa di si Curiamoci va Andiamo di qua C'è nessuno Nessuno Qua che c'è Fondiamo qua va Fondi qua mia Datemi bombe Vi prego Datemi bombe 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 Moneta Moneta Adesso la moneta non mi serve Mi servono le bombe Dove siamo qua Ah siamo là praticamente Dove abbiamo fuso la prima porta Quindi andiamo di là Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Salve Salve Qua non vedo niente Fondiamo la serratura Via di serratura Fondiamo qua Ok Visto che abbiamo utilizzato la soluzione medica Direi di craftarne una Bomba a distanza due Fantastico Che siamo qua al sicuro Craftiamoci una soluzione medica Perché non abbiamo più Vai Ok E per adesso basta così Carichiamo qua Non è carico Teniamoci in mano le bombe Ho capito che si va avanti solo di bombe Andiamo di qua Andiamo di là Dove siamo qua Salve Siamo arrivati Ah no Che vuoi Evelyn Che cosa devo fare Che devo fare Evelyn Che devo fare Eitan Sei vivo Eitan Eitan Sei vivo Che è successo Chi è No Ancora vivo Lo so Lo so Non ti farò male Che cacchio Chi è Che vuoi dire Non sono un maniaco E non lo sono nemmeno Margherito O il mio piccolo Ah perché l'abbiamo curato con il siero Quindi è diventato normale Quella Evelyn È colpa sua Che cosa diavolo è Cosa vi ha fatto Ci ha infettati con il suo dom È così che lo chiama L'ho trovata Tra i rottami di manave nel baglio Poi tutto è cambiato Ma Ti infetta e controlla le tue azioni No Non proprio figliolo Lei Penetra dentro la tua mente Nella tua anima Non puoi oppurti Lei diventa una parte di te E non puoi più resistere al bisogno di Ti trasformi in qualcosa di diverso Eh l'ho notato Mi ha contattato perché spinta da Evelyn Ascoltami Quella ragazzina vuole una famiglia È lei la chiave Capito? Tu devi trovarla E fermarla Ma come fosse semplice Ethan Devi liberarci Ti prego Oh ma io ci provo Ma voi mi uccidete tutti Ma che devo fare? Qua mi avete tagliato per una mano E vi devo pure salvare Ma c'è È assurda sta cosa però È assurda Chi è? Sono io Sono Ethan Dentro sta cosa Aiuto Non ho intenzione di fargli del male Non male Allora libera Mi va Liberatemi Mi prego Liberatemi Mia Mia Se è lì Mia Che succede Mia Mia Aiutami Mia Ti prego Brava mia Grazie Mia Mia Non c'è tempo Presto Esci di qui E trovala Tieni È dietro di te Che devo trovare Che è dietro di te Ferma Che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Salvati Si è trasformata di nuovo Ora devi andare Non riuscirò a resistere ancora a lungo No Vai e uccidi quella muciosa No No Mia No No ma veramente Sono Ethan Di nuovo È di nuovo tutto perso Ma stiamo scherzando Ha tutta la fatica a raccogliere le cose E poi me le prendono Ma è assurdo Spero non ci mettono mostri almeno Ok Mia è rimasta lì dentro Cioè qua io non sto capendo più niente Ethan fortunatamente è vivo E che ne so È rimasta lì dentro Ma ora Ora non lo sappiamo Dove cacchio Sarà andò Ok E dove siamo qua? Dove siamo qua? Relitto della nave S2 Ancora lì sotto siamo Quindi niente Sproviamo qua Vediamo se c'è qualcosa da prendere Un cappellino Niente Qua c'è un buchetto Andiamo di qua Che è? Oh Che è? È colpa È tutta colpa tua Ma di chi mia? Oh ma stiamo scherzando Qua quale colpa a me le danno? Cioè Io sono venuto a salvare mia moglie E qua Non lo so Questa situazione non mi piace più Ehi Tarnes Sbrigati Che dobbiamo scappare da sta nave Non mi piace più sta situazione Dobbiamo Cioè dobbiamo andare Vamo nì Basta Mi sono arrabbiato Chi è stanno sti rumori pure Ok Siamo usciti dalla nave Quindi siamo fuori Perfetto Andiamo Chi è? Riprenditi Ehi Tarnes Riprenditi Capisco che Stare chiuso in un bozzolo Non è Non è stato per niente facile Che sono pesci? Tutti i pesci morti Almeno puoi mangiare Ehi Tarnes Non so se saranno commestibili Ma quantomeno ci puoi provare Io non l'assaggio però Fallo tu Andiamo Andiamo Qua dove siamo? Palude Andiamo Andiamo Altri pesci morti Poverini Andiamo di qua No No di sopra Andiamo 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 Qua non c'è niente No Adesso di sotto Attento Eitan Attenta sti pesciolini Che qua non mi piacciono Non si sa mai Qua se ne anima qualcuno E ci mordicchiano le chiappe Non lo so Andiamo Andiamo Vai Passa sotto Ok Una scala Ma dove siamo? Qua siamo di noi a casa Siamo di noi in quella casa Non mi dire Non mi dire siamo ritornati di noi in quella casa No vero? Perché veramente In cacchio No È diversa Meglio così Ok Andiamo di qua Un po' di cose Qua che Munizione potenziata e pistola Sì ma non ho niente Un libro Andiamo 18 febbraio 1892 C'è stata una frana nella miniera di Patterson Tuan e Beckford ci sono rimasti secchi E Huxley non si reggerà mai più in piedi da solo Il vecchio Stan aveva ragione Il terreno era troppo instabile 19 febbraio 1892 La società non vuole mandarci dei rimpiazzi Ci toccherà fare i doppi turni Non vedo l'ora di tornare a casa Eppure io Figurati Figurati Che è Miniera di sale Abercrombie Abercrombie Dulvei Sud Dalvei Sud Ok Miniera di sale Ci stiamo avviando verso le miniere di sale Aiuto Che è Psicostimolanti Qua abbiamo una foto Che è Un elicottero Ci osservano da quell'elicottero E mi sa di sì Mi sa di sì Ok Andiamo di qua Qua c'è una radio Chi è Sì Io sono vivo però Eh Addirittura Ormai a Evelyn Non la possiamo più recuperare Ok che abbiamo Cosa di salvataggio Le gabbiette Possiamo usare le monete Ok Finalmente Forse ragazzi possiamo prendere la magnum Ok una bella cassa Quindi vediamo se abbiamo le nostre cose Ha ottenuto degli oggetti di mia Meno male Finalmente Ok Quindi mi prenderei subito le monete Così le utilizziamo nelle gabbiette Poi Dobbiamo equipaggiarci Con un po' di cose Munizioni magnum Ne abbiamo sette Pochissime però Integratori Non mi sei Fototesoro Chiave corvo Fototesoro Chiave serpente Grimaldello Ascio giocato Fucile M37 Lo prenderei anche Poi che abbiamo Aspetta Questo qual è Il fucile Quello Quello che ho aggiustato O quello che avevo Polvere da sparo Erba Bruciatore Combustibile Che non me ne faccio più nulla Tutti sti Eh M21 Un fucile classico non è molto capito Questo è quello potenziato Ok Quindi togliamoci questo Il bruciatore Non mi serve Manovella nemmeno Pistola G17 Eh si Pistola la prendiamo Va Prendiamola Eh Poi che abbiamo Soluzione medica Forte Perché io non ne ho più Non ne ho più Adesso dovremmo avere un po' di cose Munizioni pistola Cartuccia fucile Pistola potenziata Munizioni pistola potenziata Cartuccia incendiare Adesso no Incendiare no Combustibile no Pistola MP Due pistole abbiamo Una piccola pistola Con potenza di fuoco standard Raccolta sul relitto della nave Mentre questa è una pistola Dalla potenza di fuoco standard Progettata per una grande facilità di uso Quindi più o meno sono le stesse Credo No? Questa era quella di mia praticamente Una piccola pistola Con potenza di fuoco standard Quindi probabilmente Non cambia nulla Quindi togliamola Munizioni mitragliatrici Mitragliatrice Quindi abbiamo la mitragliatrice E la equipaggerei Assolutamente Combustibile Bomba a distanza Le abbiamo Quindi le prendiamo Coltello di sopravvivenza Lo prendiamo tutto A questo punto Prendiamo tutto Combustibile Munizioni pistola Agente corrosivo Per adesso no Mitragliatrice Assolutamente si Ma non la puoi equipaggiare Perché già ho tutto Pure Fluido chimico Forte Munizioni mitragliatrice Le prendiamo Altri fluidi chimici Munizioni pistola Soluzione medica Ok Fucile L'abbiamo visto Questo l'abbiamo visto Niente Non abbiamo più niente Quindi che cosa ci teniamo E che cosa ci lasciamo Perché io le bombe le voglio Assolutamente Le bombe ci servono Quindi per adesso Io lascerò il fucile Volendo Lasciamo il fucile Via Lasciamo il fucile E ci equipaggiamo Il mitra Dov'è L'hai tolto Mia Eh mia Niente Adesso siamo Etan Quindi l'hai tolto Etan Riprenditi il fucile Aspetta Io queste soluzioni Le prenderei per adesso Visto che lo spazio L'abbiamo E ci equipaggiamo Il mitra Ok Via di mitra Perfetto Dunque Utilizziamo le nostre bellissime monete Ne abbiamo 12 12 monete Quindi che cosa abbiamo qua Allora Abbiamo la magnum E stabilizzatore Aumenta la velocità di carica No no Io voglio la magnum Va Prendiamoci la magnum Ragazzi Finalmente la magnum Forse inseriamo 9 monete 1 Dopo tanto tempo Finalmente la magnum 2 E via di magnum 3 Ragazzi però abbiamo pochissime munizioni di magnum Quindi ce la conserviamo Non la possiamo utilizzare così Con troppa facilità Ok Mettiamo quella 3 2 Via 1 E magnum sia Ragazzi Ragazzi E magnum sia Prendiamola Finalmente Ora si che ragioniamo E tra l'altro Non la possiamo nemmeno equipaggiare Fantastico C'è un colpo in canna E 3 E 7 Li abbiamo in cassa Quindi salviamoci la partita E ragazzi Io terminerei qui il video Ma io voglio provare sta magnum Quindi togliamoci un po' di cose Va E andiamo un po' avanti Ma solo esclusivamente Per 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 verificare come funziona Sta magnum Ragazzi Così Per giocarci un po' Per vedere quanto è forte Effettivamente Quindi Prendiamo le munizioni pure Quindi oltre questo punto Io non salvo Però adesso vediamo Come funziona La magnum Cosa sono le munizioni? Munizioni 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 Ristola Munizioni Dove cacchio sono le munizioni? Munizioni magnum Ok ragazzi Andiamo avanti solo per vedere Di utilizzare sta magnum Guardate che potente Che potentissima Quindi abbiamo visto tutto Abbiamo fatto tutta sta strada Per prendere la magnum Adesso la dobbiamo utilizzare Datevi un mostro Adesso che cerchi i mostri Non ce ne sono Venite qui mostriciattoli Venite qui Venite qui mostri Maledetti Venite dove siete? Dove siete? Che vi spacco tutto Vi spacco Ok guardate quanti sono Io Via di magnum C'è potentissima Via di magnum Io No colpi sprecati no Via di magnum Via di magnum Raga è potent Eh ma È potentissima Ma che cosa Che qua si risuscitano tutti Via di Vogliavo spaccare sta testa Aiuto È bello che si scansano Via di colpo Alla testa Cioè ma sono potentissimi Aiuto Cioè ragazzi qua dovremo affrontare Un bel po' di cose dopo Qua ci sono C'è una scienza Ah c'è quanti mostri sono qua Oh Quasi quasi metterei La bomba Via Che siete due Oh Siete due maledetti Venite qua da papino Venite qua Vieni qua Che due colpi È meglio che uno solo Via Cioè ma sono più potenti Stavolta Avete mangiato Spinaci per tutto il giorno Ok ragazzi L'aria è libera Ma ovviamente io non salvo Perché ho sprecato Otto munizioni di magnum Quindi al prossimo video Saremo in questo ascensore E ce ne andremo praticamente Non so dove Quindi lo scopriremo Al prossimo video Al solito se il video vi piacere Dicete un bel like Vi ricordo di poter seguire Il max roba Gia facebook Twitter Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo Su minecraft pocket edition Ragazzi l'estate Sta arrivando Quindi perché Non farla arrivare Anche sul mio mondo Di minecraft Ragazzi Quindi stavo pensando Oggi di fare Una fantastica spiaggia